L'8148 se è una miscellanea di cartoline buste primo giorno in 16 album anche qua cercherò di andare veloce per non fare durare il video un'eternità ci sono cartoline ci sono interi postali nuovi cartoline di vario genere interi postali del Regno d'Italia ripostali nuovi e usati cartoline anche qua interi postali di variazione oltre che italiana vaticano giusto il primo giorno di repubblica primo periodo però quello è un po' più anzianotte con la maximum di verdi qua sto vedendo che non è proprio facilissima da trovare di nuovo cartoline chiudi lettera e poi ci sono un insieme di questi albumini portafoto con cartoline varie vado veloce perché se no il video dura davvero un'eternità queste sono generalmente cartoline di palermo da quello che vedo questo invece sono arte e cartoline un po' di tutto il mondo cartoline di italia in generale e per finire quest'ultimo altre cartoline se volete altre informazioni scrivete a filateliacchiocciolaquattrobaiocchi.com ovunque a